Il prelievo alla rinfusa da un cassone è una sfida che coinvolge la visione artificiale e la robotica. Questa applicazione vede come protagonisti un KR Cybertech ed un sistema di visione 3D realizzato dal nostro partner ISS. La tecnologia del beam picking è ormai matura per essere ampiamente applicata nel mondo industriale. Una gamma sempre più ampia di oggetti può essere manipolata e si possono ottenere tempi ciclo estremamente ridotti per prelievo da un cassone. Con questo sistema di visione 3D si risolvono la maggior parte di situazioni in cui i pezzi si trovano in posizione non riferita senza necessità di sviluppi dedicati. Il KR Cybertech non è l'unico robot protagonista. È infatti anche presente il KMR IVA, un acronimo di KUKA Mobile Robotics, che è la combinazione tra un robot collaborativo LBR IVA e una piattaforma mobile e flessibile. Una volta creata la mappa dell'ambiente tramite tecnologia SLAM e stabilite le traiettorie del movimento per la pianificazione del percorso, il KMR è in grado di muoversi e raggiungere le posizioni desiderate. Tutto completamente in sicurezza, grazie alla presenza di latte scanner che interrompono o rallentano il movimento in caso di eventuali presenze lungo il percorso stabilito. In particolare, nell'applicazione in corso, il KMR IVA è in asservimento al processo di beam picking, riempendo il cassone precedentemente svuotato dal KR Cybertech. La collaborazione tra le due parti dell'applicazione è resa possibile grazie all'interazione tra il sistema operativo KSS del KR Cybertech ed il sistema di navigazione del KMR IVA. Grazie a tutti.